Un fiore in memoria di Edoardo nel suo camerino personale del San Ferdinando, lo storico teatro che fu della famiglia De Filippo. Il grande drammaturgo e attore napoletano si spense a Roma il 31 ottobre 1984. Edoardo lascia una delle più grandi drammaturgie del Novecento e anche uno dei punti più alti della nostra tradizione attoriale. Tra l'altro Edoardo è anche la nostra pedagogia civile più potente. Io non so cosa sarebbe stata, cosa sarebbe Napoli, se il teatro di Edoardo nel corso di questi due giorni, il teatro e anche il teatro televisivo, perché lui comprese l'importanza di quel mezzo, non avesse in questi anni contribuito a un'opera di formazione della nostra comunità e soprattutto la sua capacità e la capacità del suo teatro di coinvolgere gli strati popolari nel teatro. Quindi è stato un elemento culturale fondamentale di identificazione e di collante. L'omaggio della città è stato reso questa mattina dall'assessore Nino Daniele assieme ai ragazzi della Scuola del Teatro Stabile e all'attore Nando Paone, che proprio in questi giorni interpreta la grande magia nel ruolo del mago Marvuglia, che fu di Edoardo. Cerco di fare il possibile per rendere questo personaggio quanto più vicino possibile alla sua drammaturgia, distaccandomi nel senso che abbiamo cercato con Luis Pasquale, il regista, di non imitarlo, ma semplicemente di esaltare la sua parola, il suo scritto, e quindi sperando di avvicinarmi, anche se in dimensioni proprio di distanze astrali, alla sua recitazione. Abbiamo qui anche il vice direttore della scuola, Claudio Di Palma, Mariano Rigillo, che sta provando fuori Napoli, ma partecipe con noi come Tommaso De Filippo, che è a Torino. Stare con i ragazzi della scuola e anche rendere un po' omaggio in questo giorno dedicato a Edoardo, anche a Luca, perché il primo direttore di questa scuola è stato Luca De Filippo. Grande responsabilità essere in questo camerino dove è stato lui per tanti anni, dove è presente il suo DNA. Io provo una specie di sindrome di Stendallo ogni sera, ho qualche vago mancamento, ho avuto comunque l'onore e il privilegio di essere diretto anche da Edoardo, pochi anni prima che morisse, era l'80, 81, 82, 83, quegli anni lì, e di averlo conosciuto da vicino, di averne apprezzato l'umanità, il grande amore che gli aveva per il teatro, chi racconta che era anche un despota. È vero, ma lo era perché amava troppo questo mestiere, il mestiere dell'attore e il teatro in senso generale con la T maiuscola.